Accordiamo i fratelli Scalto tornati alla casa del padre. Vincenzo Grassi, Giovanni Bazzocchi, Costanzo Geraldi, Gastone Venturi, Don Giovanni Ravagna, Alberto Sirri, Raffaele Galli, Luigi Vanni, Mario Carducci, Samuele Andrucci. Fabio Manuzzi, Aldo Sussi, Domenico Andreucci, Giovanni Ghirodi, Vinicio Amatori, Antonio Ghirodi, Guido Ghirodi, Padre Pio Rigenti, Padre Cristoforo Saborano. Deciolato Ponelli, Mauro Iacurti, Sergio Ghirodi, Giovanni Sometti, Leonardo Casadei, Ivan Paganelli, Raffaele Molai, Giovanni Manetti, Don Nello Basini, Mario Mondardini. Oliviero Domenichini, Mario Amantini, Raffaele Lascuoli, Don Stefano Golinuzzi, Don Vittorio Pagliarani, Gabriella Giuliani, Niko Graffieri, Mauro Farnieri, Laila Ceccarelli, Pierluigi Bellettini. Gianfranco Innocenti, Maurizia Scagnolari, Andrea Castagnoli, Giovanni Casadei, Luigia Triucci, Virginia Niri Biasoni, Chiara Lupo, Stefano Fabri, Massimo Binotti, Don Sergio Capelletti. Gianfranco Innocenti, Don Giancarlo Sacchetti, Alberto Mondardini, Paolo Buscarini, Michele Carluori, Paolo Forti, Donatella Baiardi, Vincenzo Amadori, Don Mario Vettino, Flavio Benini, Padre Federico Carpi. Verder Soldati, Don Lino Mancini, Eugenio Ferrini, Adriano Monti, Giuseppe Calandrini, Augusto Domenichini, Paolo Fortenti, Paolo Domenichini, Edo Basoli, Lucio Montagliani. Chiana Alvisi, Don Marino Fabri, Don Ettore Magliorini, Giancarlo Cantaludi, Francesco Guarducci, Enzo Baldoni, Diana Alessandri, Don Vito Gentili, Vittorio Zofoli, Roberto Marelli. Angelo Vanni, Giorgia Pazzocchi Andreucci, Alberto Borsani, Gianluigi Brassi, Piero Piero. Questa avventura, queste scoperte, che voglio vivere con te, guarda che il canto è questa natura, noi siamo parte di te. e le mie mani in te in mezzo ho pesca a cuorre mentre sovremia dai sassi del Bruxelles Una canzone e le puoi sentire, oh pioggia, scorsi d'altronde, e tu, mare, che frasi le due volte, si scoglie sulla spiaggia, e non che tu viaggi mai sognare. E' un appuntamento bello, caro a voi, ma caro anche a me, potersi ritrovare qui per ricordare dell'Eucaristia amici cari che ci precedono, che ci hanno preceduto nel meglio dei cieli. E' la Chiesa del Cielo, che sentiamo particolarmente unita alla Chiesa della Terra, noi che siamo pellegrini sulla Terra, in questo momento, in una unità profonda. E' la festa di tutti i santi. E allora, per vivere intensamente questa comunione, vogliamo che il Signore, con il suo perdono, purifichi anzitutto il nostro cuore. Confesso a Dio di potere. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Con il suo Signore. Dal Vangelo, secondo Matteo. In quel tempo, Gesù, vedendo le folle, salì sulla montagna e messosi a sedere e gli si avvicinarono i Suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li appaestrava, dicendo, Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché redditeranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno a Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mettendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Parola del Signore. Credo che la festa di oggi, la festa di tutti i santi, sia tra le feste più care. Possiamo dire che è la festa degli affetti. Perché ci è caro? Chi sono i santi che oggi festeggiamo? Sono tutti quelli che sono in paradiso. Quindi, tra questi santi, ci sono delle persone che abbiamo conosciuto, che abbiamo care. Ci sono dei nonni, delle nonne, dei papà, delle mamme, degli adulti, dei giovani, dei bambini. Persone che sono vissute in mezzo a noi, conducendo una vita semplice, una vita però ispirata all'amore. Cioè, hanno fatto della loro vita un dono di amore. Hanno costruito una società bella, attraverso le azioni della propria quotidianità. Entrando allora in questo palazzetto, questa mattina, mi è venuto spontaneo associare questo luogo che ci ospita con le nostre chiese. Le chiese dalle nostre quali, quando noi entriamo nella nostra chiesa, ci viene spontaneo indirizzare il nostro sguardo al tabernale, alla presenza di Gesù e Eucaristia. Ma pensiamo anche...